La MBC Servizi Arezzo torna al Palasport Estra domenica 17 marzo alle 18 per affrontare l'S Solar Gallarate, formazione che è chiuso al quinto posto la prima fase del girone A di Serie B che si è vista esclusa dal girone delle più forti nella seconda fase solamente per differenza Canestri. I Lombardi a differenza di Dertone e Borgo Manero sono una formazione molto esperta per la categoria, con tre giocatori che hanno viaggiato in questa stagione ad oltre dieci punti realizzati e due interni molto fisici. Coach Mazzetti, che a dicembre ha sostituito alla guida di Gallarate e Gambaro, può contare anche su Indalgo, innesso di gennaio la cui presenza ha permesso a Gallarate un record positivo dal suo arrivo, sei vinte e due perse. La difesa della squadra di Coach Evangelisti sarà chiamata agli straordinari per cercare di limitare gli avversari. Proprio su questo aspetto si giocheranno le possibilità di vittoria della Sbac che dovrà giocare con grande determinazione per riuscire a mettere in difficoltà un avversario costruito per ambire alle parti alte della classifica. L'appuntamento per i sostenitori a Maranto è sulle gradinate del Palasport Estra domenica alle 18, quando gli arbitri alzeranno la palla 2 della sfida tra MBC Servizi e S Solar Gallarate.